www.redigio.it e la storia continua e ancora sui tatuaggi Tutti sanno quanto esso diffuso presso i selvaggi e anche presso taluni i popoli relativamente incivili, come nel Giappone di quel tempo. Anche presso di noi i contadini sogliono tatuarsi leggermente la pelle delle braccia e delle mani con dei segni religiosi, i quali, come qualunque altro tatuaggio, sono indelebili per tutta la vita e sono ogni indizio sicuro per riconoscere l'identità della persona. Il processo per compierlo è il solito, quello c'è di fare incisioni in tutto lo spessore della pelle, seguendo il disegno che si vuole produrre e quindi stropicciarvi fortemente una materia colorante e innocua, la quale si immedesima con i tessuti, finché l'eccesso viene sorbito dai vasi linfatici, rimanendo il disegno. Sembra che l'origine del tatuaggio nei popoli selvaggi derivi dalle necessità di conservare le tinte che non pochi hanno l'abitudine di dare superficialmente alla pelle. Le labbra, le narici, la fronte, le unghie sono le parti dove queste tinte si danno più frequentemente e nelle tribù circostanti al fiume Amazzo, sembrano anche distinguere il grado dell'individuo. Il tatuaggio, che non sarebbe altro che la tinta fissata nella stessa pelle, serve spesso anche a esso come un segno di distinzione. Alcuni popoli l'usano come espressione di lutto dopo la morte delle persone case. Così è come nell'isola di Hawaii. Ma, e più delle volte, non è altro che un mezzo per nascondere la nudità e sostituire così i vestimenti. È innegabile, infatti, che quando su tutta la superficie del corpo sono sparsi disegni a tinte vivaci, l'impressione della nuda pelle è notevolmente scemata. Il tatuaggio è a semplici punture o a incisioni. Nel primo modo si trova presso i popoli della Nuova Zelanda, della Malesia e della Polinesia. E in quest'ultima, specialmente, l'abitudine è salita in grado di vera arte. E i più bei disegni si vedono riprodotti sulla pelle dei tatuati. Nelle isole Viti, nell'isola Marchese e anche nella Polinesia, si fa il tatuaggio per incisione, adoperando un coltello d'osso, introducendo materie coloranti tratte da piante indigene. Qualche volta stropicciano le ferite con piante corrosive, per provocare il rigonfiamento della pelle in corrispondenza del disegno. In altre regioni, il tatuaggio si fa a confini differenti. Nella Siberia orientale lo riguardano come un significato di prodezza o di abilità nella pesca e nella caccia. E l'operazione si esegue con solennità religiosa. Bisogna notare però che quei popoli sono completamente vestiti. Presso gli indiani del Sud America è un indizio infamante, da poiché viene applicato su quei che parteggiano per le tribù nemiche o disertano durante le guerre. Nell'Africa si tatuano più di rado e con minore quantità di disegni sulla pelle. Così fanno i Niam Niam, i Monbutu, i Bogo. Nell'Africa centrale, sulle rive del lago Tanganyika, il gusto del tatuaggio è ancora coltivato. E qui la forma dei disegni vale a distinguere la tribù l'una dall'altra. Quello che è più curioso è che in quelle regioni del centro, come della costa africana, il tatuaggio si usa ad aggiungere operazioni di torsione o di sollevamento della pelle, che oltre a un vivissimo dolore e vera malattia, perché finché non è compiuta la cicatrizzazione e producono anche la completa deformazione delle parti e della fisionomia. Del resto l'operazione al tatuaggio può durare parecchi mesi, secondo la quantità di disegni che si vogliono fissare. E siccome è per sé dolorosissima, così non tutti vi resistono e alcuni, talora, anche ne muoiono. Vi sono dei popoli come quelli dell'arcipelago di Pellau, nella Micronesia, che si tatuano poco, malgrado il gusto o la tendenza per un simile ornamento. La loro costituzione fisica non li rende capaci di sopportare tutta l'operazione. www.redigio.it E la storia continua. www.redigio.it 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 Grazie a tutti